Allora, pronti No, l'anno scorso diciamo che mi andava tutto bene quest'anno un palo, poi tante volte magari anche un po' di sfortuna e invece questa volta è andata bene Mi guarda adesso che c'è stato un gran giorno di ritorno è stato andato a vedere la sua posizione che si dice grande quantità, grande voglia sempre, grande impegno grande giocata anche perché siamo in quest'anno che hanno avuto 4-5 occasioni tanto l'impedissima, quindi ti chiedi anche a replicare l'induzione all'anno scorso Ma diciamo che io ho la propensione a giocare aggressivo Magari all'inizio del campionato facevo un po' più fatica anche fisicamente e poi invece dall'inverno ho iniziato a entrare in condizione e anche a essere più positivo in fase offensiva Sì, io sono uno che se facessi tutti i gol che mi sbaglio farei 20 gol a stagione Purtroppo va così ho sempre delle occasioni però tante volte sbaglio mi manca un po' di lucidità Sì C'è stata una buona partita, dovevamo riscattarci dallo sconfitto di domenica abbiamo fatto un buon primo tempo abbiamo aggredito bene, abbiamo concesso poco a parte il rigore, si è stati ingenui da una rimessa laterale e poi il secondo tempo abbiamo trovato subito il gol e ci siamo difesi abbiamo concesso un po' però d'altronde un po' si Sì, ci ha fatto due interventi due parate importanti e complimenti anche a lui Eh, è sbagliato però sì ha sbagliato loro Esatto, esatto Noi dobbiamo salvarci il prima possibile e poi vediamo Purtroppo abbiamo perso una partita che secondo me non dovevamo perdere domenica col Poggi Bonzi è importante almeno pareggiare per stare agganciati anche al treno playoff Io non lo scuso io fatti e vorrei rifare anche quest'anno Però Grazie 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 Grazie